Magari i nuovi possono vedersi. Sì, io non sono d'accordo. Allora il secchio... È nella chat dei spazi. Adesso lo rispondo. Il carbone dove lo mettiamo? Il carbone lo faccio. Verrà questo. Quindi chi dovesse rubare adesso di nuovo avrà il vino del Giappone per qualche giorno. Poi rimesso in privato. Guarda che come ci avessi fatto a fiammatura? Invece c'era una zappa nelle cose. Sì, dovrei aver fatto. Mi sono fatto due picconi. Ho messo il ferro e le cose. Stacchi di pietra. Chi cambia da prime a sub normale. Quindi gli risulta come prima sub. Quindi chi ha fatto la sub con il prime risulta come prima sub. Grazie Eros. Quindi quello è ottimo. Semplicemente non dovete aver mai fatto un pagamento dalla sub al nostro carbone. Sì, deve essere la vostra prima sub a pagamento. Con i soldi. Anche se vede il gano. Esatto, anche se l'avete avuta regalata. Allora andiamo Esprit. Eh, sono a 2,50. A metà prezzo. Solo per questo mese però. Eh no, da cellulare non cambia. No, da cellulare non cambia. Cioè da cellulare potete farlo ma dovete aprire il browser. C'è il Minecraft Rear. C'è il Minecraft Rear. C'è il Minecraft Rear. Molto giocatore. Minecraft Reams. Ma che colata di lava che c'è lì. Perché è pieno di mob? Ma c'è pieno di... Eh sì, è vero. Ma dove sono io? Ragazzo è la scavinata? Ma vabbè lì? Ma vaffanculo, ma vaffanculo? Ma che cazzo di scavinata è questo? Ma.... Ah, ok. Anche se... Dicono anche se risubatte da... C'è se non avete subato da tanto tempo a un canale ve l'avete registrato. Anche tanto tempo. Però è strano. Allora ci sono le... Lichi. Le gabole. Le gabole. Che cazzo sono salito a fare... Il Minecraft Realme siccome è costoso il Minecraft Realme Infatti anche Piero l'ha detto Potete anche prendere un server da qualche sito esterno per un multigiocatore Si ma io ve lo sconsiglio perchè guarda Yeh vale caro il vero è arrivato anche a te Grazie vale A parte che costa meno il Minecraft Realme Direct? Che dare che ti c'è signore? Ma costa 9 euro costa Sono in 20 i modelli Eh se sono in 20 non possono giocare a Minecraft Direct della Nintendo Eh questa notte si L'aveva detto da Roby da Cydonia Si tra l'altro la Roby stanotte fa la live a mezzanotte per il Direct Ma hai riferito a qualche gioco? Allora fanno vedere Nintendo e fanno vedere Pokémon e Luigi's Mansion Guarda A mezzanotte? Ah beh tanto se lo fa la Roby seguitelo tale tranquillamente Esattamente Il portale dov'è di qua? Si ha due campane adesso Allora per il momento tengo sta cassa Andare nel Nether Allora voi andate nel Nether Io farmò la legna Eh aspetta prendo un po' di ciuibo Eh là il portale Non abbiamo più che più la notte Andiamo a farsi la legna Abbiamo veramente poco ciuibo però eh Eh adesso faccio tutto io Vi metto anche a pescare No aspetta l'arbero qui davanti lo volete lasciare? Si Ma quale però perchè quello è rosso E allora quelli marroni il tolgo tutto Il Moro voleva iniziare a giocare in 2k A prendersi uno schermo ma Per ora siamo tutti solo in full ht Anche perchè non abbiamo schermi per il 2k Infatti va benissimo Lo capisco Ma per ora si Ho potuto ripetere che il 2k si è bellissimo ma Ma in realtà cioè no Non è che volevo iniziare a giocare in 2k E stavo cercando uno schermo nuovo Perchè questo qui a destra mi sta quasi abbandonando Eh dovrei farlo anche io ma più avanti Non adesso anche perchè l'ho cambiato uno E non Stavo guardando se mi conveniva prenderne uno in 2k Ragazzi tappate i buchi dei game Oh no per framerate alto Per me comunque Iniziare a calare un po' di prezzo Fortunatamente Perchè adesso inizia a diventare lo standard Il 2k Il 4k era ancora troppo lì Luminosità è un pelo dite? Vedete male voi? E' un buglietto Dobbiamo prendere Ma io se non arrivate non ho piccoli Sono un idiota Ricordo comunque ragazzi che Se ci sono mai imprenditi voi i buglietti vedete un po' male Perchè questo schermo anche a voi Ti ho occhi che anche la vostra munita Esatto Io ho un massimo la luminosità Soprattutto se guardate da La live da cellulatre E siete dei uomini di merda E la vedete del cazzo per forza Anch'io spesso le live le guardo la cellulare Sono inizia nel letto Non posso portarmi il pc nel letto Scusate Non ho mica un feccia Ragazzi non piantate le live le piante normali C'è un problema Non piantate alberi normali di fianco a quello grosso Perchè le foglie si attaccano e diventano tutte deforme Ma le hai preso tu? Cosa? Il ferro Eh si è giù Non è giù Non è giù Non è giù Non è giù C'erano tre stacchi Ho sparito tutti Mi sono levato di culo Perché? Ah minchia Sono sempre nel nether Ma sto formando in giro Mi raccomando non piantatele più Perchè sta... Guarda che schifo che è venuto fuori E' scritto non piantatele live Sì Da portale a sud Troverai il castello Se no io... Portale a sud Si Da portale vai a sud Il carriero Stanno facendo i picconi Che non ne ha... Eh ma no Perchè servono le clip Potete... Le clip le potete fare tutti Potete fare tutti quanti Anzi Se... Se siete dei bravi clipatori Vi... C'è fuori anche... Il... Il simbolino di fianco il nome Si se ne fate... Se vengono viste tanto le clip Da quello ho capito Poi non ho capito bene con Fuzzo E poi comunque vengono usate Cioè ci aiutate anche Aiutate il look più che altro A fare poi... Thermobest Jezar poi appena poi Farma altra pelle Che mi serve per fare i quadrestri Sì vado un attimo nel nero Poi c'è riepido Io ho avuto... Ho avuto la luminosità Però non basta ancora Dicendo... Posso passi un po' Devo... Devo andare a sfruttare Devo aumentare l'audio del tuo microfono Dice Dabo Ma è sempre stesso problema Non... Anche se ho avuto Non cambia la segna Non so cosa c'è il microfono In questo periodo Io ho avuto due anni che... Ero avanti Io mi metto a... Ho capito se sei andato al sud Ma non c'è Dal portale? Allora... Non vedo nessuna torcia Sei andato senza torcia C'è una schianata che va su 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 Cazzo E come diceva Un sacco di persone Siamo matti? C'è un sacco di quattro Cazzo non so Ti è? Ma il signor Featherpiece Grazie Anche lui sfrutta il metapath Siete convenienti eh? Grazie 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 mille culetto Molto gentile Che spada super Oh Eh si ma non c'avevo una Un po' tutta... Cosi Bastante giardine Sì ora potresti subarti anche tu eh Visto che te l'ha regalato Ma non gli ha regalato Eh appunto Non credo che sia A due anni di sacco Non ha mai pagato una sub signora Io lo so Eh ho trovato il castello No è vero si ho l'ha visto No forse una volta si Una volta Una volta Forse l'aveva fatta Hai definito il castello? Due alberi giganti Io li vorrei buttare tra piccoli C'erano che sono belli In effetti C'erano che sono belli C'erano due ronde Ho preso Ed è vero Quante adesso erano? Ne servono tre Va bene culetto Grazie mille Ma cazzo ma c'è il gasto Pallo minecraft Pallo d'arbo Pallo d'arbo Se spara è un macello Se lo book Però no una volta mi ricordo Che il prime sicuramente L'avevi usato una volta Ma il prime Ma il prime Ma è veramente più buio? Sbaglio Veramente non vedo il culo Ma dove sono usciti poi sti creativi? Chi è che trovano sotto il mio? Vai dietro Ma dove però? Sto mano del cavo Non c'è niente L'ho già sparuto quanto? E' una merda Qui c'è una cassa Già presa E' per Russia Per Russia Per Russia E' per Russia Ma non credo No infatti Ma è bene Va bene Va bene si Mattone Eh sono carini sti mattone A me Con la mia texture Sono belle Poi non so che la cosa Ma la lava mi ha tolto tutta la vita Ma è rimasto il cuore E' lava comunque Hai capito? Ma non mi spegnevo più Mi prendono i mattoni Ci facciamo un posto Ma sti alberi sono giganti Io li voglio buttare giù Però sono belli Facciamo un posto per le verruche morelli E del nether Eh si dovremmo 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 fare la cassa del nether Non la cassa Un posto dove coltivarle Ah già che quelle si coltivano Vabbè si lo possiamo fare anche lì da qualche parte E' veramente un castello di rana Di di fianco al... Quelle li puoi fare anche sotto terra tanto no? I mattoni di netherrack si... No non lo so Non si possono fare Oh si si possono fare Oh si si possono fare Ah vuoi questi netherrack Ciao Kree Stasera andiamo avanti con... Meno 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 Vedo l'ora E ieri mi ha preso bene Si sono divertiti Cosa è successo? Ah era un alberello Che paura No poteva avere il doppiaggio Vabbè proprio si sapeva Vabbè proprio si sapeva E' test di cazzo proprio il culo Vabbè si Grazie Piafoffa Grazie Piafoffa Piafoffa grazie mille Grazie mille Ma aspettavo un po' più di intelligenza per me Ma che dici Ma quando mai Possibile Non c'erano un intelligente Era pure... Per quello che fa niente Ora c'erano l'intelligente è stupido Ma chatta ha donato 3 euro Grazie bene Forno chatta Si funzionano... Le termo benedizioni certo che ha funzionato Grazie chatta Domani devo dare per la seconda volta l'esame di base di dati 2 Che dura 5 ore Quindi Secondo me non funzionano comunque sbagliato Beh se è la seconda volta vuol dire che la prima volta non è andata Ma hai fatto la chatta più volte Quindi non funzionano Magari non hai fatto la benedizione No magari non c'è la chiesa Esatto non ha fatto la benedizione Ah adesso andrà bene Vedrai che sicuramente chatta andrà bene Ma è un castello veramente del cacchio Ah è proprio il gioco che mi serviva E hai visto quante volte Esprit ci fa morire sui giochi Quindi se la benedizione te la dà lui Ha paura Mi sta a pregare in mano io guarda Quanti alberi qui? Buono Ma dove ero passata? Qua? Mi pianto tutti Vai fammi prendere un po' di quartz Caraca che pauraia che male Mi fa una cosa Sare pigman come state? Prosto? Ho trovato anche una grotta dove poter farmare un altro po' di materiale Cosa? Cessi pigman Esatto difficile Ma è quello di Breaking Bad hai capito Esprit? Ah 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 Simpatico Marco Comunque si fare il cavorettista Io non posso farlo Esprit Ok Non mi piaci Tu Cosa c'è? Cosa cazzo c'è? Troppo non posso Mi piacerebbe però Purtroppo non posso Brutto imbecille Vedi Antipatico Tra l'altro Volevo fare una domanda Siccome Mi è venuta adesso la fissa E spero che mi Ah ah Mi sei operato Esprit Di Fare il modellismo No però Mi sto più orientando a sorprendere i modelli di sta vorsa della lego Cioè Cioè È normale che costi veramente 800 euro la Millennium Falcon Cioè Ma lego costa un macello Sì ma sono 800 euro No lego costa veramente Eh ma lì paghi proprio il nome Cioè paghi la licenza a sta vorsa e paghi il nome lego Eh paghi sì Tu Ma per paura Per paura Che 800 è veramente tantissimo Ho lagato sono finito in un buco pieno di zombie Ma dai Ma non sono quello costato Cioè ce ne sono altri Ma risalvo Il mix wing normalissimo Sono 100 euro Mi sono perso Mi ha detto ricordate Il portale Eh sì Sono due marche effettivamente che paghi Però cavolo Veramente tanto Perché mio zio se l'ha E tra l'altro Ma il lego di base è molto bello È gigantesca È quasi un metro di lunghezza Cioè è veramente enorme Ma il lego costano tanto in generale E altro ferro Lo dici uno che compra qualsiasi cosa che ottengano per fare Beh sì li paghi Ovviamente paghi il nome Dove facciamo con le zioche? È 80 centimetri di lunghezza Mi fa Ma compi bene? 80 per 30 Credo Sono 7000 pezzi eh Non so Facciamo così Però Comunque 700 euro Cioè sono 100 euro 10 centesimi al pezzo Tra virgole Quanto carbone Quanto 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 Si ci sono anche quelli più piccoli Però Domanda C'è di fare Molto piano sotto a magazzia Beh sì C'era anche il più o meno che devo fare Allargalo va bene Faccio tipo la porta Sì sì Va bene Va bene Sì Sì Io volevo fare una cosa Che non sono mai riuscito a fare Nessun mio Nessun mio mondo di minecraft Ma in realtà è una stupidaggine La farm di slime Sotto sotto Farm di slime Possono servire Come cazzo la fai? Eh vai in una zona dove posso spawnare Vabbè la zona c'è un problema Che devo cercare su Google Perché non mi ricordo a che zona Potrò non fa male Sì vale Sai che forse sì E ti fai Ti fai la stanza gigante alta E lì in teoria poi dovresti andare Dovresti Dovrebbero spawnarti Prima o poi Puggerli Però non l'ho mai fatta È vero Ma il Lego è sempre costato Comunque tanto No il Lego costa tantissimo A priori è sempre costato tanto Sta veramente un po' Sotto C'è una cassa col ferro E lì davanti appena entri Appena scendi Ma non è... Ma è... No La crafting table l'avete fatta lì sotto? No Eh no Sì E la cassa del ferro è sopra E il ferro è sotto Eh ma perché il ferro lo riempiamo prima Le cose preziose Le cose preziose Le teniamo in casa Perché Sposta veramente più di mille euro Poi se volete invertiamo E facciamo la cassa del ferro sopra E sotto quella Cino Pino Grazie Gino Pino Buon arrivato Grazie Gino Pino Molto gentile E grazie per la tua cassa Per il video dei sub nella chat Dei sub immagino Dei sub Che è quasi un po' su Twitch Esatto E in casa se volete entrare al gruppo sub Aspetta che sto farmando Fai fare un altro Io devo farmare cibo e legno E ma lì si è presso nel nether Eh sì Stavo Stavo rispondendo prima a ban Potrebbe essere un nuovo metodo di pubblicità di Twitch Perché l'ho notato che ieri da cellulare Cosa? Che partano pubblicità da 5 secondi adesso Ah Anzi Perché prima il minimo era da 30 Adesso anche ieri da cellulare l'ho notato che duravano 5 secondi e poi basta E va bene Beh Non è anche molto vero Ho mai visto che gli pagano uguale Allora possono... Eh non vorrei che partano di più eh Magari sono 5 secondi e non la fanno partire ogni 3 minuti Allora fai pensare Vero di no Vero Che abbiamo 20 Beh l'hai detto Gino quindi basta Vero di Yuki Beh potevo farli questi Facciamo anche Iban Ovviamente ci sono le istruzioni per costruire nei Lego Sennò come fai? Non puoi... Questo e io sempre un libretto E' il librettone gigante Vai tu Uliezar che sto formandovi Non ho capito cosa devo fare Aiuta Esprit con le cose delle verruche Ma scomm'è? Dove sono? Ma sotto sono No perché sennò veramente non abbiamo cibo Ma poi se pesco il pesce palla capirai Stavo prendendo il quarzo Stavo prendendo il quarzo E poi il pesce palla serve a qualcosa Per le pozioni mi sembra Quindi lo tengo... Lo metto nella casa Una pozione di respirazione sott... Sott'alta mi pare Aspetta Ho incredibilmente ritrovato la strada di casa Ma la canna con ripristino Non si scarica mai Eh no Non me ne è ciulata Oh l'ho pesata dalla casa Beh tanto... Che devo farlo? Sai cosa ti serve nel... E io non ho mai fatto la strada Non so cosa... Non ti può Trapezio Grazie mille Trapezio Grazie trapezio Non posso allargare di altri... Io non so proprio come farle Le cose delle verruche Ho mai fatto in Italia Mi spara! E mettere sopra le verruche E' come un... Ma vai via Gast! Ah ok Semplicemente non devi farla fuori Beh ma... Tu sei in grado di farlo? Eh no... Devi scavare il tuo terreno qua Devi scavare tutto per terra Tutto? Allora va a facere Niente del brick metto Un pescetto Ma qua c'è bisogno di andare a dormire ancora Non c'è bisogno di andare a dormire ancora Andiamo a dormire Vieni da giù il portale Devo scappare Penso di merda di un gatto Andiamo a dormire Ma sono tornato dietro nel tempo Vieni, venite a dormire Che così io torno a pescare Che almeno abbiamo più cibo Così torno a pescare Ok, aspetta che finisco il muro Vabbè io rimango nel nedro allora io Eh sì Te ne pregate Può mettere il ferro a cucinare Qua metto il legno... No, non c'è sta il legno qua Ehm... Nella stanza sotto il battiscopa Con delle scale di legno Il battiscopa Fupa? Ma i battiscopa Ma non c'erano una scopa Quindi non serve anche Non so come Fare il battiscopa Su Minecraft Più che altro Le mette al posto di tutto il finale Eh ma non viene benissimo Ah le metti tutti intorno E poi tanto non c'è la scopa Quindi cosa non serve Amici ho messo il legno qua dentro Per il momento Eh Sì Si le avevamo provate all'epoca C'erano quello con tutte le roba di robot Era fine Il concetto Era bello Molto complicata Ma bella La mia preferita Rimane comunque La Fit the Beast Capito? Grazie La mia preferita Rimane sempre La Fit the Beast Eh Fit the Beast Purtroppo Con la Twilight Zone Bellina Era quella Ci eravamo divertiti Lo facevamo con Voki Ma abbiamo fatto un sacco Se competivi All'epoca Ci hai fatto anni fa? Sì Quattro cinque tutti Allo sì Allo sì Ho ancora di uno dietro Uno Dietro? Ok Bello dormire con le pecore Che urlano accanto al letto Adesso ho una morbidina Forse Ma non credo Siete degli onti Se non scazzate Beh Sì Beh No no Eh Dopo creiamo il robottino automatico Sì Vabbè Io sono uno tutto schifoso Ah Ho trovato un autilus Anche le parete Si chiama? Autilus Schiel Fammi tornare che io non ho più cibo Come è nata questa cosa dei sardi con le pecore? Perchè i pastori delle pecore sono tutti sardi? No perchè coltivano un sacco di pecore Coltivano le pecore Eh sì Le amnaffiano Un sacco di pecore Infatti le amnaffiano le pecore Sotto terra Il fatto che i sardi sono bassi Ma che vuol dire scusami Che loro sono più bassi rispetto Ma non è vero No credo che la mica sia più bassa Non credo che la mica sia più bassa Non lo so Il bot non ti banna se fai un... Cioè 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 Andre 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 69 Grazie Grazie mille per la sal Ho fatto 5 stack di... Sì lo sconto è solo da browser E desktop app Non dal... Dall'applicazione Quarzo dove lo metto? In una cassa a caso No Era dove era La cassa giù Potevai aspettare un attimo Apri check il muro Fatti i cubi Così risparciano spazio Con il muro Sì sì Vabbè ma la metto... Lo metto in un'altra cassa Facciamo la cassa del nether Vabbè sì Vabbè sì Però magari la netherrack Non mettiamo tutta la netherrack Se no rivediamo Cioè ce la metto Ma era soltanto che ha poca Eh con netherrack Fai i mattoni con netherrack Cosa? Fai i mattoni con netherrack Ma le sarde che sono belle Hanno un bellissimo vero Cosa ci provo? Allora ho letto che stanno studiando veramente Ai scusi I loro geni Perché Sono i più longevi d'Europa O del mondo Sì Hanno un sacco di centenari Doviamo mettere anche qualche fornace sotto Il segreto è nel pecorino Aspetta le faccio io No le sto facendo io Ah ok Il segreto è nel pecorino Ti immagino Mangiati solo un pecorino sardi Mica fosse così facile magari Vado... vado a... Uccidere un po' di mucche Ah non abbiamo più grano Ho pescato un'ampolla d'acqua Che bello Vedi qua sono un mucche Comunque sono così ci sono proprio... Arrivò Le metti e via Ah ok sono qui Un discorso un po' più adattato E mi hai fatto perché voi E adesso metto un'ampolla d'acqua L'alambico dovevamo prendere dai villager Possibile che non c'era neanche una casa con l'alambico No 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 Come si faceva tra l'altro? Con il blade del nether mi pare Si può prendere il l'alambico marco E non si può? E non si può silk touch E no Ah serve il silk touch? No neanche mi serve Come no si Non lo so sai Scusa ma fanculo Un po' di vetro Un l'alambico fatto E mettilo adesso lo facciamo di sotto E poi verrà lì E poi verrà lì Sotto adesso sto sistemato per sistemare Mi serve appunto Un nether brick mi servono E nether brick adesso l'ho messo nella fornace Ah nella fornace di vetri forse Si bisogna metterne nella fornace di vetri forse Si bisogna metterne nella fornace di vetri Dicono che io lo posso prendere invece ragazzi No si spacca ragazzi Con le mani forse Con il piccone lo puoi prendere No Schifo missile Grazie schifo missile grazie mille Bentornati L'avevo provato ma l'avevo fatto a mani nude Quindi l'avevo rotto nel mio mondo Perchè l'avevo preso a mani nude E l'avevo fatto una cacca Forse col silk touch poi Ma non Ah no ma mi sa anche non col silk touch Allora a mani nude si rompe Allora a mani nude si rompe Sbaglio E' lo scorso E' lo scorso Mi serve però l'avevo rotto Ma che problema Scusa Io con la mani nude sicuro l'ho rotto nel mio mondo Ma tu hai il sito su Hai il top di velluto Vado con il piccone No io c'ho Aspetta No era efficienza 3 e fortuna 2 Fatelo voi Fate un piccone voi Troppe mucche Vado a prenderlo Si infatti Ma è strano Perché ad ottenere si è spaccato Probabilmente troppe mucche Non va bene sta cacca Troppo Troppo Eh ammazzalo Eh ho capito ma bisogna anche fare le Cucche Aspetta prima fammi fare i quadretti Che ci vuole una sola pelle Aia che male Aia che male Poi facciamo i quadretti Poi facciamo i quadretti Ma tanto le librerie Comunque vedi ho fatto un piccone della madonna lo stesso Io Vengo con le peccas Sto pescando veramente un sacco io Allora Io volevo un altro castello Ah ti sei sparato Ma siamo stronti Ma mica però una mucca mi ha dato due pelli Vedi in fondo da I pelli C'è la spada con i piccini Mancano i pelli Mi ascondo io Mi ascondo io Morelli C'è una sponda che quelle merda dei colci sono Allora Bastardi Ma quel polipo sta morendo Attaccato il Ma vai via di lì Ma guarda che pirla Guarda si è ammazzato È andato a schiantarsi sulla riva ed è morto Dove sono le scale no? Dove sono le scale? Ah Mark hai formato un po' di legno? Si C'è la cassa di fianco alla crafting table Non posso mettere i quadretti per dirmi che materiale è però Mi sento non li vedo Dove sono? Ne ho messo un po' di legno E' eccessiva Adesso ne farmo alle Più altro si facendo un sacco di pesce Faccio un sacco di Si non abbiamo le armature di diamante Infatti adesso vado a farmare col piccone con efficienza Mi ricordo avevo fatto un canyon Vado lì Un'altra rod è ottimo ottimo Allora Liezar Che dico? No qua metto i pesci Eh ho fatto due librerie ho fatto Ho messo i pesci che ho pescato qua Sono tutti da cucinare però eh Ok adesso li cucino Poi Ah il pesce palla Eeeh Deven grazie Deven Grazie Deven Grazie Deven Allora Eh sopra inizia a diventare la libreria abbastanza efficienta Ah Eh io c'ho quasi 30 livelli Adesso cosa vuoi? Spawnono all'infinito del... nel... nel... nel castello I... così blaze Si Non c'è lo spawner? No c'è lo spawner in teoria No non c'è Come no? No E' un castello di 2x2 morendo Piuttosto c'è uno spawner Ah che male Ma che magari è interrato da qualche parte E spawnono oltre la parete Eh può esser Probabilità Tre pistolini Grazie Deazors Grazie Deazors Grazie mille Grazie mille Ah e l'autilus lo metto nelle cose preziose allora Con una creatura rock craftiana Azors Però che fastidio che abbiamo messo il materiale sotto Che adesso Allora dove devo andare? Ah si giusto Prova ad andare al... Alla situazione E' un castello di castello Di castello no Di castello no C'è matti Iniziamo a avere un po' di quattro Eh ma dov'è la stanza col spawner di blades? Non mica la vedo io Il castello l'ho sporato scuso Adesso vado sotto a scavare Adesso Di subito Ah lì in fondo c'è un pezzo di castello Varei lì Vedi? Ah il giolo è tonissimo Prova ad andare al coso che c'ho il piccone fico Che vi porto più materiali Ehm... No 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 mettiamo avanti minecraft rainbow Probabilmente domenica a sto punto Si rainbow lo facciamo o le sere Che non sappiamo cosa fare Adesso finchè Adesso sera mattina siamo qua Ormai ultimamente lo facciamo sempre domenica sera Eh si Perché c'è anche il corvo Io ci sto giocando anche fuori live Tra l'altro mi sono ripreso bene con dubbo Così Ehm C'è il mercato Marco No Però mi piace Mi diverto a giocare C'è il mercato Ho esperto a giocare comunque perché mi piace come gioco Lo faccio sempre volentieri Se hai live che fuori Il 9 Dovrebbe uscire a breve la season Con i due operatori Ma sicuramente double lo saprà Il 9 Il 9 spero possa No La sera continuiamo main of medansi finchè c'è Perché non dura così tanto ragazzi Quindi finirà tra poco Cosa? Eh meno che me dà non durerà Ma da Scusa No Nel senso finirà tra poco Ah si Finirà probabilmente venerdì si Non dovrebbe durare più di venerdì Anzi 8 Ma sei stronzo Petto di merda Sempre pacato eh Mi piace per quello ragazzo così Hai capito c'è il gas di merda che mi sputa nel culo 9 Non è neanche tanto volgare Non è neanche tanto volgare Comunque va anche bene Per il lavoro che fa Il 9 è una nuova cosa Ok Vediamo se trovo il Sei stronzo? No Si sempre Come potete sentire c'ha questa È tipica tra l'altro delle sue zone questa gentilezza Tanto a dare Marco a offendere eh E tu puoi offendere gli altri Sì veramente anche la stupidità E devi andare alle sue parti Ma alle sue parti intendo proprio il tuo quartiere Sì sì no che vedo lui che intendo Marco stai offendendo tutte le persone che mi sono vicino a me Oh no intendo te Tu sì Marco no Marco fai di tutte le persone che mi sono vicino a me Io intendevo quello di Moro L'hanno capito tutti Certo Moro è il Marco Moro è il Marco Non trovo più il... Provo di incantare un piccoli di diamante Capito? Non la spassare di qua io Rischio Un piccoli di diamante Quanti diamante abbiamo? Tutti fatti Ma aspetta Non lo fare Perché? No hai solo vedere Quanti livelli hai? 25 E non lo fare Arrivo a 30 Sì Io ne ho 30 sempre Ormai non riesco a scendere sotto i tre Ah meno che muo... Eccolo il Canyon Canyon Marti Ve lo ricordate il Canyon Marti? Appassionati di Busquets Quanto carbone c'ho? Non viene a posizione di Busquets ma non va a nessuno Ah tra l'altro dopo c'è l'Italia Dopo c'è l'Italia Se avete Sky dateci un occhio qui C'era Cosa non è che devi fare la posizione di Marco Perfetto Io scendo Ah c'è un bastardo qua eh Ma ci sono dei... Ostia Qua volo di sotto Eeeh 5 adesso ne abbiamo Ci sono quelli c'è degli schetti Guarda mi cadere Guarda mi cadere Guarda la terra mi conviene Ah perché c'è... Pio... Pocendo... Dalla terra Dalla terra Ahà Ahà Pestia No 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 Sì poi ne abbiamo... Faccio l'arco Sì non ne ho preso che sa quanto eh insomma Tanto l'arco... Abbiamo 70 miliardi di cordicelli Ok questo non posso... Eh... Cosa serve via la selge La selge per fare le frecce Però fare il lacciarino, le frecce E basta Ah vabbè Ora lì mi sta cambiando in mano Fa un pochino Meno finchè Eheh Mauro Che vuoi che ti dica? Pappa mia Eh Ok ho fatto l'arco George Ah ha fiestito un errore Eheh Hai sottoscritto un errore Eh notte vado a dormire Andate a dormire Andate a dormire e mi dite poi quando devo levarmi di chiudo Io adesso non vado a dormire Eheh Io sono a dormire e quindi saprete uscire No Non esco Eh allora sto a dormire Ok Di notte si no Ok Ok guarda quanto... Quanto faccio con fortuna Incredibile Ah ca... V***** Ho rotto tre pezzi di... Sei scemi Io ho rotto, ho otto Ne ho fatti otto Mi affia anche voi però se lo... No L Mi ricordi Martin Niente... Ho mai già giorno T-Piri-Ring 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 No T-Piri-Ring No T-Piri-Ring Tite Ma quello è uno slime di lava Quante torci ho fatto...sbagliata Quante roba sto facendo ma è fighissima sto p***one lo potrei fare in realtà non è neanche uno dei migliori non è il leder va la uno con il silk touch comunque ci serviremo hukdron grazie anche a hukdron grazie mille hukdron praticamente ho fatto un giacimento di carbone e ho fatto già 54 pet devo andare su, devo andare su, devo andare ok ho ucciso lo slime de fuego mi ha dato due trema di magma la mettiamo nel panino quella con la crema di pistacchio moro no? un po' di brecciauda? no di magma me le immagino più al peperoncino al peperoncino si è vero o al pingu dipende dai zitto lì sopra il tuo cazzo di gaste continuando a scuola sta calmo no ragazzi è proprio... è tipico come è che devi fare scusami? ma è meglio è spirito, ho rischiato la vita io ma devo rifare tutto, che è successo? eh amici direi che siamo picchi ormai ho fatto tre stack da 64 di carbone con due giacimenti picchi ricchi di fantasia vado giù io sento un gas a zenzel ma se possiamo andare dove sei tu scusa? qua grazie davvero? con miseria zenzel mi stai guardando? mi stai ah la aspetta sembravi un pigmento perchè non si diceva ma come ti permesso? bastardo sembravi una cosa bianca ma c'è una marea di quarzo qui ma è tutta montagna che lavori di magma qui c'è un pene qua ma sei scemo per un pene, madonna eh mi stai un po' eccessivo e poi sei bigotto ma che c'è anche tu ma che c'è anche tu ma questo casino c'è uno spawner c'è qua non ho caputo molto bene ah che ferro che c'è lì anche qua c'è Tiziano guarda lì oh guarda comunque se vieni più a sud poi c'è altro castello che sono io no ma in teoria se io faccio no niente se ho trovato un po' di materiale interno la c'è la c'è la? ho detto la c'è guarda puttana sono troppi e non riesco a trovare un passaggio ma non riesco a rischiare di cadere la c'è 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 eeeh qualcuno va ad evitare quel maculo eeeh no mi spiace ho 29 livelli e mi devo fare i libri incantati e non abbiamo libri e mi piace se li abbiamo fatti da 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 no ma facciamo prima le libri via e ne servono ancora ci serve e ne servono ancora ci serve più mucche ci servono ma le mucche le ha detto l'ezer prima non ce n'erano che ci stavano erano troppe no le ho uccise poi alcune vorrei proprio prendere un po' le pelle ho lasciato solo i cuccioli ho messo pelle ragazzi che bello sta prendendo piega questa parola chi c'è i pelli scusa? i pelli pelli i pelli abbiamo detto ah pelli ossa pelli 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 ossa ossa ah qui c'è della luce vabbè prendere questa un po' beh adesso ma serve ancora la polvere di lumi ok io l'ho presa ma non so a che cazzo serve ci sono anche le pozioni con la polvere di lumi si prendiamoci tutto abbiamo studiato bastanti mi sono scusazzato sapevo alle spalle faccio il portale è evidente evidente gestibile eccolo difficile mi piace ragazzi purtroppo dovremmo dammi una mano Mark su questo caso che ti devo dare una mano sto farmando per tutto il server sì sto pure dando una mano a te fai qualcosa da solo cosa c'hai bisogno della mano sempre io faccio tutto da solo certo certo sono buoni infatti ma quando mai che ho 30 livelli dal inizio del gioco sono esploso solo una volta con un creeper e perchè vuoi di streamare tu no mio che mi porta a sfighi allora qua voglio altro card bene non lo spazio basta ok ma ce ne sbattiamo pierre siamo temerari noi io ho finito il picco andiamo a tenerife noi ma è finito tutto il è che potremmo coprire il portale qui nella cobblestone certo che potremmo ma non lo faremo ma il quarzo è finito tutto eh io l'ho raccolto tutto non ho raggiunto il livello 30 però c'era da qualche parte fa c'era il bastardo eh questa è lava uno schetto l'avessi che è morto ahia ork bravo pierre sei veramente un rapper le scatole ahhh pepe 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 ostrica nooo chieder nooo ma cosa è successo c'era un pixel che l'ha diventato tutto bianco e poi adesso si è ricolorato vabbè ti 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 si si ho detto prima però non ce l'abbiamo non abbiamo ancora i berri e i berri non ce l'abbiamo anche perchè l'ha preso la fiorentina adesso non so che meglio aspetta col gluten qua vabbè ne ho sei aspetta col gluten eh ah col gluten ah ok ho sei berg per ora basta ma qualche puttana sto lag ah me ne basta anche una a me eh eh marco che ci vuoi fare le donne le faccio impazzire comunque spero di non ti pensare non ti pensare sei impazzire che cosissimo questa cosa qua scusa ma infatti io sono illegale in molti paesi con le donne fai il paesi poi e allora l'angola ok che dov'è eh esattamente poi in in pakistan ok che dov'è eh beh lì in pakistan sono tutti no ci sono tu ne tieni prigioniere tieni prigioniere una donna pakistan ah no era pugliese la tua è vero poi beh sicuramente in sardegna dopo la storia che ho avuto con giorgia palmas non aspettano più e poi in burundi ah poi basta no 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 poi non è così tanti paesi poi puoi sempre andare in francia marco dai no po 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 allora scusa puoi sempre il bastardo marco per il papi ah beh vedete scavare è molto utile cazzo le scavare migliori del mondo ma che fastidio qui hai lasciato tutto in fatto esprit cosa non togli la terra eh dove sei la ma che terra nel nel dove hai piantato l'everrug eh siamo andato al posto nelle delle penette roba vedete 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 Ted Mosby l'architetto come è passato guarda una storia di scale senta no era l'altezza Ted Mosby l'architetto hai detto eh sì no non è così in basso questa grossa le scale che vanno sul nulla vorrebbe sta schifo beh vado lì pi ri ri pi 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 mali ma esprit nel mezzo ci metto il corridoio di Nether vai ciasva stare il corridoio di Nether guarda non truccare morelli la mia opera non truccare ormai ho fatto tutto il muro come? e se devo fare un muro di quello diverso e e se devo fare un muro di quello diverso mani cose non me ne frega un cazzo walker tutto E' spaventoso, voi ci piantate i funghetti, eh? Ma i funghetti che restano solo lì, quelli. Che non sono funghetti, sono verruche. Come quelle dei piedi. Delle vecchie. C'è gente a cui piace. Ma c'è gente a cui piace, che cacchio dici? Ha qualcuno che ha un feticismo con i piedi delle vecchie. Non esiste, Marco. Ma io lo spero, ma... Il mondo è strano. Il materiale te l'ho messo nella cassa del neder. La buona è fatta così, ho fatto. Non so se è completato le verruche, o se è uno spazio in mezzo per passare, magari per un'altra stanza, magari. Non lo so. Magari sì. Tanto non è che ce ne servono così tante. Come buone da mangiare le verruche. Sì, sì. Sì, ma con un po' di... Un po' di crema di magma, no? Sì. Beh. Io adesso, Marco, voglio venire a... Pasturlarti il cazzo. Wow, ho già finito, fa cagare sto Kenia. Mamma, io voglio pescare. Ah, fa cagare. Sì, adesso do la cassa. Si è? Naruil! Grazie, Naruil. Grazie, Naruil. Ben arrivato. Mi serve un calderone, mi serve. Ministro? Sì, sì. Ministro Calderone? Ma questo non... Ma questo non... Il ministro che ha introdotto... Ha introdotto... Ha introdotto il... Il... Cube. Io dormo. Non posso ancora. Non posso ancora. Ma non si può dormire neanche durante il temporale. Che cazzo vuol dire? Ma c'è un temporale? No. Però sto dormendo. Come Sierk dice che è brutto, che è brutto. E poi non mi gioco a Minecraft, guarda. Uguale DAV uguale. Ma sì, cosa... Ma come DAV uguale? Eh sì, se la mette che tu... Oh, io sto dormendo, però. Mi sono nel... Eh! Sono morto! Ma nel Lander tanto chi se ne frega dormi lo stesso se... Un è nel Lander. Un grande per chi volesse vedere Italia-Serbia di oggi alle 13.30. Sì. 13.30 c'è Italia-Serbia. Fortissimo. Espres... Fortissimo in Serbia, ragazzi. La Serbia è veramente fuori. Io vado a pescare. Ora lì... Mi hai amato esteticamente una cosa? Forca puttana, ero appena partito. Eh, vabbè. Amici, ho fatto altre due stack di... di ferro, praticamente. Non perché volevo farlo così. Eh. Nooo. Cos'è sta cacata? Eh, metti sopra... Tu vuoi mettere l'ambicco sopra? Eh sì. Fallo. Menti che è un fallo così. Dai, la piccola guarda, però. Eh, guardo, guardo. E qui ci metti la cassa con le robe... La Sky sul PC o TV? Eh... Ah, vabbè. Credo andrò a vederla di là con mio papà. Sulla TV? Sì. Però... Non so. Eh, vabbè, non metterla nell'altro angolo, in caso. Eh, potrei anche vederla da PC, dipende se voglio di vederla anche mio papà. Ecco, manca un livello solo. Non deve fare cacchina, astro. Vizzi, mi vedi, Vicky. Che vuol dire, Vicky? Mi dice che devo rinnovare e rinnoviamo, dai. Grazie, Vicky. Grazie, Ricky. Ricky, cosa fanno i salmoni? Questi li pesco a mano, porca miseria. Ma io mi sono perso. No. Con la spada. Eh, spretto. Ma facciamo un acquario, poi si possono molti... Eh, l'acquario. Ma io che caspita sto facendo, ragazzi? Sembro stupido delle... E' paura! Era un pipistrello, mamma mia! Ha paura! Ha paura! Ha paura! Eh, che ho quasi trenta livelli. Eh, che ho quasi trent'anni. Ma poi lì l'ho già superato. No, però... Pianco. Allora. Tranquillo, manco, tranquillo. Ragazzi, che bello! Che bello farmare questo piccone. È come averla creative e prendo un botto di materiali. E non è neanche tra i migliori, ripeto. Cioè, è uscito anche un po' così. È di molto di meglio. Cioè, è 504... Oh, ma sto... Ma sto... 504 è fortuna... È un Minecraft Reams che sono sotto di noi. È sotto di noi, ok. Sì, sì, Marco, esatto. Che cazzo devo fare? Eh sì, tu hai certo. Diti, diti, diti. Amici, quante stack di carbone ho e di ferro anche. Ma sono fantastico. Voi mi ammerete quando... Eh, uno... Uno Slender! Uccidilo! Uccidilo! Uccidilo che ci serve l'Ender. Eh, lo so, ci provo, aspetta. Guardi, adesso esprimiamo un po' di noti... Uccidiamo qualche Enderman. Un po' di noti? Sì, va bene. Ucciso Perla! Sì! Sì! Abbiamo una Perla! Ucciso Perla? No, quello non mi... Ma questo chi è? Scusa, ma sei il fratello tu? Sei che di Perla? No, no. Non c'è Perla. No, non c'è Perla, eh, scusa. Lo so. So che ti piace, eh. Tu che hai detto è che c'è Perla, eh. Ti ho detto io. Puoi tra un po' uccidilo un Pirla, ma Perla non credo di... Puoi sto spiaggiarsi... Un polo. E si è ammazzato. E sto farmando un sacco di inchiodi. Ne ho fatti quelli della cassa e li ho fatti tutti così, praticamente. Sì, è a 30 livelli. Posso tornare. Un po' di merda, non diventerà bene così, va bene. Io prendo altro carbone, ma non ce n'è veramente bisogno. Buona, ma adesso. Ma tu hai messo il legno? È nella cassa di fianco alla crafting table. Però non so se gli azzar l'ha già usato... No, no, no. Ce n'è ancora, ce n'è ancora. Allora... Il comando oggigiorno lo usiamo nei casi estremi. Fammi un esempio. Ho cercato una sella. Beh, adesso che hai detto che ci sono aperta, potete anche usarla, effettivamente. No, non è estremo. Proprio quando il marco sviene. Praticamente. Spero mai. Ma guarda. Il cervello ti è svenuto parecchie volte. Quando un altro polpo si è spiaggiato. Morto. Guarda quanti carboni. Non c'è più la bocca Morelli. Stasera, stasera. Stasera. Stasera che abbiamo i personaggi fidanzati. Facciamo un po' di... Facciamo i blocchi di carbone così risparmiamo un sacco di pazzi. Eh, devo usare... il pietro io ma poi sai con morelli 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 come cos'è una parca puttana ma visto stai facendo dov'è il portale ho pescato una tenda da pesca normale ma che parola poi ci arrivo dirò ma deve esserlo davo era già finita la paura poi ci arrivo dirò un Creston Ryan perché cadere con lava? ma in caso non ho le mani poi si serve l'acqua per fare le funzioni beh io ho una boccetta di acqua adesso bravo io ve l'ho presa eh nella cassa ha tolto la torsa lo zombie, un pezzo di cacca io non so se riuscivo a tolare la cacca devi pescare deficiente piccica pucci grazie spicci grazie spiccica pucci io voglio una nuova incantanza spiccica pucci scusa se non tirai su la canna non la prenderei mai nella nuova incantata io non sono molto esperto di canna oh non mi si tira orca miseria poi ci parla ma già la gatto ha dato botte di lag più spesso del solito un pesce di plastica ok sono tornato ben tornato ora non avete idea sarete fire di me ma perchè stiamo ma che cacca cosa c'hai no è che stiamo mettendo un po' materiale su un po' giù o lo trasferiamo giù è che voi tutto prima ho tutto tutto su e dobbiamo trasferirlo ma perchè sopra ho messo le robe veloci che ci servono ora poi fate quello che volete ma il ferro è un po' veloce di servono e l'ho messo sotto è più facile cambiamo ma la fai tutto sotto metti si se volete il ferro lo teniamo sopra come cazza ma no perchè se lo usate di continua eh lo usi di sotto comunque se volete voi io ho c'è la crafting table e le fornace di sotto indistruttibilità 3 vabbè ovviamente quella è indistruttibilità 3 è un po' una merda eh ma gli altri non li do c'è devo farlo però ah già ma scordi abbiamo tutte le libriche già no? no ma che ecco vabbè livello 26 ma neanche neanche un uomo di pelle è matto se hai un po' di merda indistruttibilità 3 ma che merda non credo culetto beh tanto si può mettere lì no ma lo fai da e non lo so prova a copiare il link e farlo da chrome su telefono si dovrebbe aprire la chat col bot che poi non bloccatelo che vi ricorda quando rinnovare la sub e lì ti dà il link per entrare qua nel gruppo tele strano che non non riesci ma magari li facciamo più più cibo cioè ma non stanno arrivare in giro serve molto più cibo ho già fatto 8 viste con 3 mucche dei stivaletti ho pescato eh ma ci servono più che altro i libri appunto eh però oggi ho 3 mucche ho chiamato 8 euro di manzo crudo invece che mi pelle si la pelle la dà veramente poca e prova così perché magari ti apre un browser integrato che non ti fa un cacchio si non bloccate la chat col bot potrebbe creare casino poi tanto semplicemente vi ricordo solo quando dovete rinnovare la sub e solo se avete il prime tra l'altro oh sempre t'avvicini sempre vai via vai aia di vicenda un pezzo di sterco poi cosa peschi con lo scuso hai un altro kit il tuo scuso è un po' costiglioso aspetta eh vado lontano vore 37 lo faccio così e vore li hai perso vore li hai perso il peso aia di vicenda vado ad andare eh miseria espri devo pescare insieme a te morelli ok pesco lo squid pesco ma già tanto guarda adesso va a morire eccolo è morto no è salvato in calcio d'azimo quello ma è lì lì che si vuole suicidare guardalo non è lì che dice voglio farla finita ah no è morto quello dietro vero ma no è morto l'altro prendiamo l'inchiosta è sempre utile ci fai i libri forse l'inchiosta non mi ricordo però per il momento vediamo veramente un sacco di carbone eh adesso aspetta quello che ti porto io via eh ma non ce ne serve così tanto veramente sono 46 blocchi di carbone eh ci sono altri 46 nella coce non serve eh vabbè ce l'abbiamo lì stiamo nei fornicosi che pollo porca putt suicide squid bravo cazzo bravo piero miglior termosifone del pantheon bravo deficiente chi è che è il bagno? eh non ne so è sempre qui sotto si sentono i versi sti versi di merda che vanno qui ma non me ci è stato sto pescando un cazzo di bello però incanto la canna io vorrei incantare quella che ha maciolato Marco vuoi degli stipanetti morelli? sta diventando notte? no ma che notte? dovete farmare i cosi dobbiamo farmare gli ender first eh si dobbiamo questo squid mi sta veramente sicuramente diamanti siiii adesso lo ammazzo a notte no? eh povero squid mi è rimasto eh speravo di no mi ha presi 9 dai con un giacimento solo aspetta eh che adesso si no io ho detto porca puttana parelli! con i mattoni fatti qua sotto parelli! ha rotto i coglioni eh squid capito povero squid eh povero squid se tornasse al coso di sott'acqua come si chiama prima il parco i bikini bottom esatto vabbè bikini bottom beh? no davo non mi rilassa la pesca capputa la pesce palla di nuovo eh per le pozioni sono utili i pesce palla ma dai stavo prendendo la rezzone stai che quando ti fai i livelli di esperienza fa piripim 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 e la canzoncina era nostalgia nostalgia canaglia lo giuro proprio quella eh boh è notte vediamo un po' se compaiono io ne ho... c'ho una perletta un perletta la casa è tutto torciato quindi non credo compaiono beh ma da lontano li vediamo Doria Doria con un... con un diamante riparo tutto il piccone no? più o meno vado a spaventare i pesci Morelli è pieno di schetri i zombie tutto capputa quello lì ha fatto un 360 l'ho visto vai il mio scudo capputa Morelli vado aspetta lo zombie ci aiuta bravissimo zombie e speda niente e qui c'è ne parlo anche i livelli ma non è che è molto cibo io ho più sicuro la manetta e ti spano ma mi ha colpito con lo scudo alzato scusa vabbè le spalle del rango c'hai bastardo scema è molto parato eh imbecille ah tu è piccolo via bastardo aspetta ma mi colpisce lo scudo non serve un cazzo allora non devi farlo devi tenerlo su un pelo prima che ti tiri la cosa eh ma ce l'avevo su da mezz'ora quanti colpiò ammazzardo poi scusa c'è su le torce ma gli zombie non arrivano lo stesso vabbè arrivano da lontano però eh ha capito eh non rompano il pane stiamo qua non spawnano l'acqua qui buono ma magari dobbiamo cercare gli endermen esprit andiamo di qua tanto quando li devi trovare non li trovi mai sicuro qua non ce ne manco uno dobbiamo resettare il server ahia e le mucche morelli possiamo ammazzarle per prendere la pelle dovremmo ah questo sono deficienti uno zombie piccolo lo vorrei lì vai e ha trovato roba interessanti amici lì c'è le mucche morelli vai ammazzarli vado un po' si è in punch best in the world becille camettino e calmo vorrei veramente ti metto la blusa eh ho preso delle pelle le pelle eeeh eeeh che niente vieni bella libreria si ahia ma zombie piccolo della fava ma quanti ce ne sono il coprifuoco non ce l'avete eeeh 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 perchè li copre dal fuoco a stronti a stronti a stronti bravi eeeh 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 la c'è una strega eh sprit dove? nella pianura padana bruciamola funziona così? eh sì ma mi ha dato l'arco mi ha dato l'arco questo scheletro le pelle di creep ma non ho frecce quindi niente c'è anche un villaggio di zombie c'è anche un villaggio di zombie per curarli sti qua o non c'ho voglia quanti ragni porca mignotta eeeh 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 beh ma è sempre non è sempre lo stesso eeeh 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 guardate sono le librerie guardate sono le librerie veramente uuuuuh c**o cos'ho preso? ah polvo di luminite? no? si? si è quel che ho preso si che paura al creeper ho trovato una miniera corri andiamo a villaggio allora smaccali eeeh come si faceva l'incudine? eh blocchi di ferro sopra e ferro sotto blocchi di ferro sopra e ferro sotto hai ragione anche te questo è un bel villaggio me lo sento che lag ma belli che si sta sposto tutte le porte cosa è questa questa roba qui più che altro ma che bella questa casetta amore guarda la cata, il carbone, il grano abbiamo un po' di cibo ho le mucche dice ma sto viaggio è uno strotto Morelli però c'ho le mucche davvero blocchi di ferro sopra e ferro sopra uccidici di tutto, serve solo pelle si si ma prendiamo una carne così abbiamo un numero di fana beh si cibo ok c'era un ender dietro e verso casa magari lo sopravvivono magari lo sopravvivono con le mucche che stiamo ammazzando non sopravviveranno più adesso vediamo se sto prendendo un piccone un ender verso casa a posto dove? a posto, allora sei uno stronze eh, la data va rotto scusi, è una roba nuova che ha messo poi verso casa ah, librerie prende anche l'altro prende anche l'altro prende le tutte tante librerie no, qui non posso scoprire dov'è l'enderman? sto volendo ma non è vero ragazzi dove c'è l'enderman? dov'è? no, ha detto vicino a casa eh, ma come fanno a saperlo che è vicino a casa se lo stanno volendo? enderman ok, ho preso 24 libri 24 libri? eh, allora ci bastano infatti ce ne mancano c'è un mucche in mezzo al villaggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ce ne mancano 9, 18, 27 libri ah, per me non l'ho visto scusa, che bravo è in crisi no, non l'ho visto sto guardando le case vi prendo le rotaie amici? ah, io non vi ho una sega eh, prendi le rotaie, sì non ho tanto spazio nell'inventario, però Marco, fattelo che devo fare? no, non posso farlo di fianco, ragazzi fabbio? fabbio fa posso farlo di fianco si sente un ender che non c'è di fianco però è stata coltata devo fare una cosa ah, io vi ho il villaggio guardo bene non c'è una sega no, ender non c'è nel villaggio, ragazzi comunque ma c'è anche Morelli che aveva visto eh, no, pare ho detto che c'è un po' sto accanto ma io sono stronzi non è vero ma ti stanno scherzando aspetta è stato un bastardo c'è una sega, ma tu vedi un ender, non vedi? no però ce l'ho lì proprio tutti effettivamente fatte la clip fatte la clip, cioè esistono le clip apposta la prima volta ok, perché non l'ho guardato la seconda volta è strana per mancare ma l'incudine in che... vabbè, scrivo in cudine in che senso può scrivere la parola, sì per cosa? ma, due scherzi sono molto soli è molto più indietro ad Abu ma nel villaggio non sto trovando l'incudine dal libro, non so perché devi fare allora tre blocchi di ferro sopra ma non la trovi se non c'è il materiale? ecco, fatte tre proprio blocchi di ferro sopra uno di ferro e mezzo e tre di ferro sopra ah ma ragazzi, minchia, non era il villaggio allora minchia, la strega era davvero tanto in là era così tanto in là, era... eh sì, vabbè, era in mezzo al penmura era un po' di dietro era diventato giuono minchia eh ma, avete detto mentre i saltellari è come un cretino non è sempre stato accanto io sto saltando come un cretino ma infatti, ma poi non hanno ma non hanno mai detto è vicino al villaggio ma di te, sì, il saltello per tre regimen perché un metro che c'era ma hanno detto vicino a casa, eh? per me è nel villaggio eh, ma loro hanno scritto vicino a casa ma vicino a casa è impossibile che lo avessi visto io infatti, infatti, quello che mi sembra strano visto che non sono lontani come fanno ad averlo visto vicino a casa? eh, dai, voi invece sono saltellando se li sono qua e faccio così e mi dite se mi sono tratto saltellando per me è qua eh, eventualmente è quello eh guardate che tre caspita sanano che poi mi perdono ritrovo le fornacche già, probabilmente beh, Marco, che devi tornare a casa, eh? che tra un po' eh, non ce la farò mai in caso torno fuori live se io che vuoi, però verso casa vicino a casa sono due cose un po' diverse tutti i cretini un pesce! è un cazzo! perché guardate vicino a casa non ce l'ha niente micio 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 ma che micio 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 a casa che ho l'inventario pieno di roba devo fare le librerie ma devo ributtare giù tutto ma che caspita succede micio 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 va, lo spuento, lo spuento micio 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 ma calma in marcia però cura un sacco stai non ti dà il mertone ti viene viene il cagotto ma qui non c'è niente c'è un creeper nel... quanti? ma stardo non scappare così tanto lontano anche mustan creeper esplodi che mi fai in favore grazie ecco ho fatto le librerie un carrello con un... dove è fitto il gatto? gatto? non so oh mi sono perso no eh che mi devo... no si sta qua è andato ok eh lo so ma ragazzi io lo ammazzo ma assolutamente ma no i gattoli lo voglio ma una volta lo ammazziamo esplodio ma perché? perché come 3 contro 1 che lo rompe i coglioni ma tu non puoi passare i gatti ormai ma me non è che io ho solo gg voglio non è che voglio i gatti ma chiamo gg lo chiamiamo? no non è uguale è un altro che si chiama gg ho preso posto guardiamolo si mangia abbastanza dov'è i gatti? mettiamo tà come si chiama? arriva il cretino? ok ho preso un bel po' di roba io ho detto che avete detto il falso sarà di volo avete detto che avete detto avete detto che avete detto è verso casa non è verso casa va bene quindi pensavo fosse da tipo vicino a diezza che è a casa mi caso è stuca sottellavi cercare come si fa sottellavo in quel momento là semplicemente essendo il delay della live diciamo se non senti con con dovera re blocchi e ferro sotto ok non è che ho detto che avete detto cazzate ho detto che mancherebbe se ti è maleducato che saresti ma anche lui è sempre cazzato infatti guardo proprio perché nessuno ti ama vedi ma allora già vuoi tu mi puoi insultare io no e questo è stato pesante marco anche il tuo detto che non capisco niente sei maleducato l'astardo ho fatto un altro piccone invece io guarda che lavoro non mi fare queste librerie va là non la faccio io un po' tardi l'eser chi è che voleva fare la ferrovia collegata al villaggio a parte mi serve il cibo che sto buendo di fame qualcuno ti vuoi non voleva fare la ferrovia collegata al villaggio sì lo volevo farla io e io ho un botto di roba adesso battone delle lezze ossia il binario rilevatore che il binario ma sono sotto sono di sotto le robe beh non credo ci serva più uno ha scritto io ti amo vsprit quindi non parlava con te aspetta passa una cosa il gatto lo metto fuori di casa grazie lontano almeno 100 blocchi vai gatto allora questa sera non dimenticatevi la fiocci non bastano le librerie eh signore posso creare altre due no qui non ce l'ho aspetta ne creo io è qui è qui in casa togli ezzaro prendi la pelle ma ce l'ho quanti ne servono è una guarda sopra sicuro ma sono in live ma deficiente becina di merda che cazzo fai mi ho fatto oh tanto andare io lo uccido tanto tiriamo un pugno ogni tanto qualcuno tira un pugno al gatto ma chi è sto legno ma che schifo no era per me ma leggi no il puttana si è incastrato sto pensando a cosa buttare ma ho davvero tutta roba che mi senti che casino che fa ok nel chat in table è finito vieni con me vieni fuori dalla mia vita lo devi portare tranquillo butto imbecille tanto sistemo le casse che qui è tutta una merda ah se non volete che uccidiamo il gatto lo deve portare almeno a un chilometro da casa ma che fa casino allontanali da casa mia ma tanto i creeper non arrivano allontanali lontano da casa mia non sono mettono in casa quindi li ho mettono forza qua perché il gatto muggisce non credo ok mark ci sono 11 di pelle se devi fare i quadri e roba del genere ok per rifarcela comunque lavoro lì boh la casa è finita amici mi sa che continuerò a giocare un attimo anche fuori live perché sono in un posto veramente vabbè puoi riprenderli da domani no e non so più neanche come tornarci a casa aspetta ormai aspetta ormai estremo i tuoi no no ma si ormai no ma ormai estremi tu deciso ma sto veramente fatta roba ho 4 stack di ferro praticamente 6 diamanti 8 di carbone oro che vabbè se te ne frega quanto te ne frega un enderman lo ammazzo vai marco fottilo ma ha scioletto da vostro gatto poveretto l'ho ammazzato non mi ha dato la perla però questo non lo ha scioletto non cagli di so stress di un gatto guarda sì io ho un sacco di merda di me non stiamo facendo nulla sul palco sai come non c'è spazio chi è che fa le fuse? farò io esprit è marco ho detto che si che fa le fuse ho detto ah ho detto che fa le fuse io ho capito chi è che fa le fuse ti giuro per davvero ho capito chi è che fa le fuse eh certo tutti scemi ho marco il gatto va bene il gatto marco il gatto marco ora è un amatore di gatti ma che dici adesso per uno che mi sta simpatico mi sta simpatico ah ma devo fare aspe ma in realtà non è che in realtà non è che a me è stato simpatico è che io sto simpatico a lui ed è un evento incredibile che ti sento mi odia devo fare qui ok io ho sistemato un po' di robe sono a posto devo fare le lanterne anche qui devo farci domani adesso prendo i diamanti e li spreco tutti guarda eh faccio un piccone subito c'è già un piccone però possiamo incantare i libri volendo adesso tanti libri ne abbiamo hai ragione dammi i libri che ne è uno dove? dove? nella cassa non c'è tutto non c'è tutto vado a incantare un libro eh lo faccio eh non c'ho i lapislazuli porca di una puttana a farmi riprendere ho sbagliato aspetta devo ammazzare una cosa ma c'è uno zombie con un'armatura e l'arco dov'è? mi serve una cosa da ammazzare che ho manca pochissime esperienze allora il piccone mi darebbe efficienza 4 tocco di velluto mi dà uno non funziona o una buona da due aspetta hai il piccone direttamente non il libro perché io ho messo un piccone con l'indistruttibilità 3 nella cassa no faccio faccio tocco di velluto ti ho trovato un posto fabbolo efficienza 3 tocco di velluto ma c'è favoloso sto posto io come torno a casa faccio anche un libro caricarati da uno che cazzo è per l'arco ah mi sa che so allora poi abbiamo il piccone col silco touch lo metto nella cassa delle robe preziose sono accanto qua all'algo della casa stai zitto eh allora ok il silco touch me l'ha dato con incantamento da da 20 livelli lo riparei faccio uno a casa questo è il mio pastiglio sto già facendo meo è un gatto guardi c'è un casino si fa tardare nel mio albero si questo è il mio albero è accanto al tuo albero non è nel tuo albero è nel mio albero io sono in disaccordo è accanto al tuo albero faccio il fuoco non è sufficiente credo proprio che avrò bisogno di aiuto io dai vieni che tu scadini fammi togli queste cose qua è vero che esplode sulla carne di zon stai a tardare ma io li voglio qua devo buttare ste robe Wilford Wilford senti qua si chiama Wilford il gatto esplode Wilford adesso lo chiamiamo Wilford ti è venuto così naturale chiamarlo così perché gli hai lanciato una rosa sei pure zofo sei milord sei miajlovic ma io li faccio una casetta Davo è palle che sei Davo qua sei peggio di Sio allora da oggi oh si or andiamo con le offese ma che ditte andiamo a letto che non posso una pinta una pinta di cui un po' il giro che pizzica il sedere andiamo a dormire si esprite hai finito tu con le tue cazzate lì no so quanto è impietto il gatto di faccia il petto lì poi lo bruciamo è impietto ma non cusare il petto ma no è che capite era un incendio casuale ah dici si cosa c'è è un cabino ma non ha capito questo è un cabino per davvero ah così facciamo è un cabino beh è ottimo per cucinarlo senti davanti è un cabino vabbè tolonto quanto moralità bene tanto non rimarrà mai lì quindi è inutile ma si che rimarrà lì basta ci metti lo pish ma che fastidio questo qua ma perché lì fatti il culo ma no è che si stigette perché se lo tolto posso mai far niente io ma io vado a dormire che è notte facete voi ma te ne manca una basta ce l'ho io ma aspetta ce l'ho io mi stai rubando tutte le cose aspetta ce l'ho io anche quello dai ah ah stidio va bene è un piccolo ragazzo posto amici che posto mi dava fastidio lì a casa ma basta di far ma che sesso oh zofilo ma schifoso ma zofilo perché lo spiccio del gatto se non fa su ma si sentilo ma lascialo lì sta bene lì posto gatto veramente la faccia di merda posto ma poverino quando lo vedi capisci vabbè 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 io non uscerò mai più da questo posto è stato bello giocare con voi lascialo salito è un tempito per il cazzo il gatto vorrebbe ecco a posto a noi ci vediamo a posto la sera si è meno mentale il secondo episodio non vedo l'ora io questa sera no quella è la marca che abbiamo anche da gli interni mi ha fatto la casa amici ci vediamo questa sera allora mi raccomando mi raccomando ciao amici buona sorte buona sorte ciao ciao belli ciao ciao